c'è più gusto a bologna con la regione basilicata regione basilicata è un po una sorpresa gastronomica d'italia ce lo racconta l'assessore regionale alessandro galella e partiamo da una lezione che abbiamo imparato negli ultimi mesi ovvero che la fragola della basilicata è una delle migliori fragole del mondo si siamo in dirittura quasi di arrivo con il riconoscimento igp della fragola della basilicata è un lavoro che va avanti da circa 60 anni nella nostra regione che ha portato a un incrocio di varie tipologie che danno poi un risultato strepitoso per le caratteristiche che la nostra terra essendo soprattutto la zona verso il marione una delle più assolate e con il più alto grado di sole dell'anno del mondo quindi è un risultato molto importante un sapore riconosciuto oramai in tutto il mondo il mercato arabo in particolare è molto interessato alla nostra fragola speriamo che con il riconoscimento degli igp i 100 milioni di euro di fatturato attuale si possano magari raddoppiare è una sfida importante ma non so solo di fragola la basilicata perché basta attraversarla per scoprire che ha mille sapori molti di questi sapori però assessore mi sembra che siano ancora da da far scoprire da raccontare si assolutamente la nostra terra è ancora una terra non molto nota i suoi sapori le sue caratteristiche sono tutte da scoprire questa oggi è una fortuna per quello invitiamo a visitarla e a scoprirla sono tantissime le differenze nella nostra regione la nostra è una delle la regione più verde d'italia quella che ha cinque parchi tre regionali due nazionali otto riserve e 55 zone protette dall'europa perché hanno un ecosistema intatto diciamo che in un momento in cui il mondo si preoccupa dell'ambiente la basilicata un ambiente tutelato che chiaramente favorisce produzione di prodotti di altissimo livello che ovviamente vanno dai fagioli di sarcone peperoni cruschi che sono un unicum meravigliosi addirittura oggi si fanno anche con il cioccolato si mettono nei panettoni abbiamo un olio stratosferico ma adesso stiamo puntando anche sulla qualità dei nostri cereali per produrre paste di alti o di alta qualità e tanti altri prodotti aggiungo ancora un elemento c'è anche una basilicata terra da vino assolutamente il nostro aglianico è oramai riconosciuto anche in questo caso ha una carenza di notorietà che stiamo cercando di superare ma le sue caratteristiche non hanno nulla da invidiare ai migliori vini del mondo il barolo il brunello perché un vino dalle caratteristiche incredibili che può avere un invecchiamento anche trentennale e soprattutto con la nuova formazione le nostre cantine continuano a vincere premi nazionali e internazionali siamo felici di promuovere anche questo meraviglioso prodotto dalla nostra terra allora ci vediamo in basilicata ti aspetto